Bellizio Irpino, terra di Zezza, un evento speciale, quello di ieri accontrato a San Raffaele, dove la commedia è stata messa in scena in un cortile di campagna, a casa dell'indimenticato capo Zezza, Leopoldo Iannaccone. Vecchio capo Zezza che poi ha dato la chance a mio zio, perché il capo Zezza è mio zio, di continuare a portare avanti questa tradizione che comunque sta dal 1600. Un giorno particolare perché stiamo a casa del vecchio capo Zezza, Leopoldo Iannaccone. Leopoldo per me è stato come un padre e io nel 2010 ho preso il suo posto. Con mio padre abbiamo sempre comunque vissuto e adesso, ancora oggi, abbiamo il piacere di ospitarli qui. Lui era un ragazzo di strada, un uomo della Pianova, semplice e che aveva tramandato a noi, oltre all'insegnamento tecnico della canzone di Zezza, soprattutto quello della vita. In scena, come tradizione vuole, tutti uomini. Manteniamo la cultura insieme a tutti gli altri paesi dell'Irpina, perché l'Irpina è una cosa bellissima. Ancora una volta, Egno Spartano, presidente del gruppo Folk Bellizzi, chiede l'allestimento di un museo. Un luogo pubblico a Bellizzi dove la moglie di Leopoldo, la signora Teresa, vuole lasciare a noi gruppo queste cose storiche. Anni fa Beppe Barri, in un'intervista, disse Se volete vedere il carnevale borghese, andate a Venezia. Se volete vedere il carnevale commerciale, andate a Viareggio. Se volete vedere il carnevale del popolo, a Bellizzi-Irpina.